La nostra terra, siamo a ritiro a Pettorali. Sabato sera ho corso la Monza-Resegone, questa gara molto particolare ed unica, famosa e sentita dalle persone del territorio. Si corre in terne, quindi tre persone, c'è il maschile, c'è il femminile e c'è il misto. E le terre devono correre proprio insieme, anche perché il tempo viene preso all'ultimo. Io ero con Andrea e Gabriele. Sono partito alle nove e mezza di sera a Monza, all'Arengario, in centro città, per proseguire per vari paesini, per 32 chilometri, tutti asfaltati, leggermente ondulati, fino a che non si arriva alla salita dei tornanti. Dopo i tornanti ad Erve termina la strada e qui prosegue un lungo, ripetissimo sentiero, denominato in dialetto brianzolo Pradirat, per raggiungere proprio la capanna degli Alpini. Diciamo che qui bisogna arrampicarsi, è molto molto particolare. Arrivati su, si ritira la borsa, lasciata in precedenza, che è stata portata appunto dall'elicottero data da noi settimane prima e poi ci vuole un'altra oretta buona buona per tornare giù, diciamo, dove avevamo lasciato la macchina. È un'esperienza veramente particolare, bella, unica, con tanto calore. Allora, abbiamo finito a Monza-Resegone, spegniamo l'orologio, 3 e 45 e 46, è molto bene, poi ve la racconto.